Nella corsa al Quirinale continua il duelò tra Silvio Berlusconi e Mario Draghi. Ma Italia Viva dice che il leader di Forza Italia non salirà al colle, serve un presidente della Repubblica che abbia un ampio consenso in Parlamento. E Berlusconi non ha queste caratteristiche? La posizione del partito è espressa dal deputato Ettore Rosato, sì, come abbia detto più volte, serve un presidente della Repubblica che abbia un ampio consenso in Parlamento. E Berlusconi non ha queste caratteristiche, ha dichiarato il presidente di quarto, ad affaritaliani.it. Secondo il leader e fondatore di quarto Matteo Renzi l'elezione del presidente della Repubblica non è comunque un tema all'ordine del giorno, ora dobbiamo affrontare la nuova ondata di contagi. L'ex premier aveva suggerito di rimandare ogni discussione a gennaio. A stretto giro arriva però la replica di Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione dopo Cristo e vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera. Il presidente Rosato ha esperienza sufficiente per sapere che nelle votazioni parlamentari il consenso si misura dopo, non prima. Al suo posto dunque aspetterei a concludere che Silvio Berlusconi non è un candidato dotato di ampio consenso. Certo, ha aggiunto, la cittadella della partitocrazia non acconsente alla candidatura dell'uomo che per primo l'ha messa sotto scacco. Più facilmente la coscienza dei singoli parlamentari si indirizzerà su una candidatura autorevole e rappresentativa. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi continua a sperare di essere eletto al Colle più alto, soprattutto dopo l'incontro avvenuto nella sua villa romana sull'Appia Antica con tutti i leader del centrodestra, io candidato al Colle. Abbiamo parlato evidentemente anche di questo. Il centrodestra sarà unitario. Abbiamo rimandato ogni decisione a dopo Natale, ai primi dell'anno, ha detto dopo il vertice. E la caccia ai voti è appena partita. Anche per questo, come ha raccontato la Repubblica, per Natale ha deciso di regalare a diversi parlamentari, ministri e leader di partito, ma anche imprenditori e giornalisti, alcuni quadri della sua collezione d'arte, la quadreria di Villa San Martino. Tra i destinatari ci sarebbe anche il ministro degli esteri, Luigi Di Maio.